benvenuti in questo nuovo video qua siamo con i bike ranale senza ciclo così ci chiamiamo noi qua vogliono le storie le storielle siamo a osilia le storielle ne abbiamo avuto una cedro e non è finita bene perché non avevamo anticoncezionale e lubrificante mi invito a finire di partire però invece il compenso c'è qua peppo papo che lui niente ha avuto esperienze con lollo se lo guardavano già da piccoli assieme lui lo lo dice a peppo vieni che ce lo guardiamo un po se sono cresciuti e così quindi adesso affrontiamo il trail che si chiama river dopo la sigla oh 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 Grazie a tutti. 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 Anticipa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Fettacolare, Lollo è andato a fuoco, fa il modesto, mi è andato a fuoco. Lollo è andato fortissimo, ti spegnevo, ti spegnevo le tassi in mezzo. Ciao ragazzi, al prossimo video, ciao.